E' stato presentato in conferenza stampa l'accordo di collaborazione tra l'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e il Ministero dell'Interno, Direzione Regionale Campagna dei Vigili del Fuoco per l'attività di intervento AIB e contrasto dei roghi di rifiuti nel territorio del Parco. E' stata anche l'occasione questa mattina per dare il benvenuto al neocomandante provinciale dei Caschi Rossi, Rosa Deliseo. E' stata l'occasione per dare anche il benvenuto al nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, la dottoressa Deliseo, che è la prima volta che viene qui del nostro territorio, del nostro parco e siamo contenti di avviare e di sviluppare iniziative che coinvolgono appunto la sinergia tra il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i Vigili del Fuoco. Con i Vigili del Fuoco noi stiamo sviluppando sempre di più una serie di iniziative che tendono a ridurre il più possibile i tempi di intervento per arrivare in modo tempestivo sul luogo degli incendi da una parte. Chiaramente questo presuppone anche un'azione continua e costante di monitoraggio, un'azione di prevenzione che i carabinieri forestali stanno facendo e continueranno a fare. Una grande attenzione da parte delle forze dell'ordine per quegli episodi di criminali che pensano di distruggere un territorio bello come il nostro andando ad appiccare dei fuochi. Rispetto a questo noi lo diciamo in modo chiaro e franco, tolleranza zero. Chi oggi pensa di distruggere il nostro patrimonio non solo il parco, già da adesso lo diciamo si costituirà parte civile, ma metteremo in campo tutte quelle azioni possibili per far punire quei delinquenti che vogliono e pensano di distruggere il territorio. Con questo lo diciamo in modo chiaro. C'è un livello di attenzione altissimo perché tutte le forze dell'ordine oggi sono impegnate nei nostri territori per prevenire ma per essere anche attenti ed eventualmente individuare determinati responsabili. Abbiamo un sistema di telecamere che stiamo potenziando sui territori, stiamo lavorando in sinergia con i comuni, la comunità montana, la regione, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco. C'è un'attenzione straordinaria. Quindi chi pensa di voler creare condizioni diverse deve sapere che oggi c'è un livello di attenzione e decisamente molto alto e la tolleranza soprattutto è pari a zero. Inoltre il protocollo prevede un altro momento importante che è quello legato ai roghi da rifiuti. Il Ministero dell'Ambiente oggi è particolarmente preoccupato per tutti quei roghi che vengono appiccati proprio sul sito di discariche o là dove ci sono dei rifiuti. Quindi anche su questo ci sarà una particolare attenzione perché lì c'è l'interesse di organizzazioni malavitose e quindi chiaramente l'attenzione anche nel Parco Nazionale del Cilento, Valleone e Alburni è molto alta. Quindi saremo particolarmente attenti anche a quelle situazioni sia in termini di prevenzione sia in termini di intervento che prevedono la possibilità di poter applicare dei fuochi laddove ci sono dei rifiuti. Dal 15 luglio fino al 15 settembre una squadra dei vigili del fuoco sarà presente presso il distaccamento di Vallo della Lucania per vigilare su tutto il territorio del Cilento. L'accordo prevede sostanzialmente la presenza di una squadra dei vigili del fuoco costituita da tre unità con un modulo antincendio boschivo che dovrà operare proprio nel territorio dell'ente parco. Questo a supporto di tutta l'attività di spegnimento e lotta attiva agli incendi nel periodo boschivo degli incendi boschivi. Quindi dal 15 luglio al 15 settembre noi saremo presenti con questa squadra all'interno ovviamente del distaccamento di Vallo che all'occorrenza in basso alle esigenze verrà ovviamente mandata sul luogo dell'intervento. Questa è un'iniziativa che era già stata percorsa e elaborata dal mio collega precedente ma di cui sono assolutamente contentissima e ne condivido l'obiettivo e lo spirito. All'interno della realtà selenitana ci sono tanti aspetti che si potrebbero approfondire anche la copertura con eventuali convenzioni della zona di mare, dei litorali, la possibilità di fare ulteriori convenzioni anche per gli incendi boschivi con altri enti territoriali, una serie di iniziative che possono integrare l'attività operativa dei vigili del fuoco perché effettivamente su una provincia così estesa non siamo tantissimi quindi i distaccamenti sono pochi e devono essere sostanzialmente integrati con iniziative in attività straordinaria come quella di oggi.